Sono Laura Perlangeli e frequento la classe Quinta C del liceo scientifico Virgilio Redi di Squinzano. È il primo anno che decido di partecipare al progetto di Premio Asimov e se dovessi riassumere in una breve frase, in una breve espressione, la mia partecipazione a questo progetto, sicuramente affermerei che mi pento di non aver partecipato anche gli anni già trascorsi, perché è stata un'esperienza che sicuramente ha superato di gran lunga le mie aspettative. Al mio malgrado non sono una grandissima appassionata del mondo della lettura, ma proprio per questo motivo sono stata motivata e incentivata dalla mia scuola nel partecipare a questo bellissimo progetto. La lettura di questo libro, libro che io ho scelto perché il suo titolo era per me, a mio avviso, estremamente accattivante, mi ha sorpresa e mi ha lasciato estremamente soddisfatta. Credo che il punto di forza di questo libro sia il suo essere il connubio perfetto tra la spiegazione della complessità di molte leggi, di molti concetti di fisica, che non sempre sono così semplici da comprendere, con il racconto di una storia scorrevole e piacevole. È un libro che consiglierei a chiunque di leggere, adatto a noi ragazzi perché riesce a coinvolgerci al punto giusto e nei punti giusti. Sicuramente è un'esperienza che se potessi rifarei tantissime altre volte.